Una nuova bretella per la viabilità locale verrà realizzata nella rotonda ipogea in costruzione all'altezza del cimitero di Cartecchio a Teramo, che eliminerà tutti i passaggi a livello sul territorio comunale nella zona di Villa Pavone. E' quanto approvato dalla giunta comunale dove l'esecutivo ha semplicemente preso atto della richiesta di variante al progetto iniziale di RFI, che ha già superato tutti i passaggi di approvazione previsti. La necessità di prevedere un tracciato tipo rampa o strada di collegamento per la viabilità vicino al cimitero comunale emersa durante l'avanzamento dei lavori e la verifica sul campo dell'impatto della rotonda sulla zona. La giunta comunale ha recepito quella che è una variazione al progetto presentato agli organi competenti da RFI. È uno svincolo necessario per portare a compimento quell'opera che loro stanno eseguendo giù a Villa Pavone. Un'opera che da quanto sappiamo è a buon punto. La settimana prossima comunque faremo un sopralluogo insieme con RFI e la ditta per avere un cronoprogramma puntuale. Agevoleranno ancora di più il traffico terramano, non dimenticando che comunque alla fine dei lavori dovranno essere ripristinati le vie che hanno subito del deterioramento a causa del flusso dei mezzi, degli automezzi e quant'altro, proprio dovuti alla chiusura di quel tratto stradale. Un'opera importante, secondo lei adesso le tempistiche per portare a termine i lavori? Le tempistiche da quello che io immagino, perché ancora non ho parlato né con RFI che non l'ha ditta, sicuramente tra marzo e aprile, perché i lavori da quello che so sono comunque a buon punto.